Ben trovati nell'angolo dello sport, intanto vediamo una bella immagine che ci passerà come il nostro regista Leo Di Blasio, c'è Zeman che sta con alcuni componenti della rosa bianca azzurra che sta lavorando perché tutta la squadra sta impegnandosi a pieno ritmo per la partita di domenica alle 12.30 contro il Cittadella. Perché abbiamo voluto mettere questa foto? Perché Zeman è stato premiato dal direttore di Cronache Abruzzese, il collega Paolo Minucci che ha voluto dare questo riconoscimento ufficiale per l'attività proprio di Zeman, del resto è meritevole per tutto ciò che ha fatto finora nel mondo del calcio. Ho detto che la squadra si sta preparando, sono già pronti per la gara di domenica, Selasi e Latì, sono disponibili anche Crescenzi e Zampano, però Crescenzi e Zampano non mi sembra che possano partire favoriti perché Balzano e Mazzotta sembrano i favoriti, soprattutto per la prova di Balzano dell'ultimo incontro. Assenti giustificatissimi negli allenamenti di queste ore Capone, Carraro e del Sole per impegni azzurri. C'è da dire che Capone però non parteciperà nemmeno alla partita di domenica. Per sabato 14 invece, quindi dopo il Cittadella, riavremo Abili e Arruolati, Mancuso e Pazzi. Diciamo che rientrano nel gioco anche Fornasier e Campagnaro, però non credo al momento attuale che possano avere grandi chance perché la coppia Bovo-Coda, che nelle ultime due partite è riuscita questa coppia, non subirerete, pare che stia andando bene, si sono amalgamati bene e quindi non credo che si facciano soffiare il posto. C'è da dire anche che siamo soltanto ad ottobre, però a vari livelli già si cominciano a fare delle manovre, più o meno scoperte, per il mercato di gennaio. Soprattutto impegnate le società di serie A, ma molte società di serie B, come il Pescara, che hanno giocatorini che possono interessare, nel breve, le società di serie A sono già oggetto di interessamenti. una nota soltanto, ma senza entrare nel dettaglio di politica sportiva, non appena si è saputo che si vorrebbe costruire il nuovo stadio nella zona di San Silvestro Spiaggia, sono già cominciati i primi interventi, cominciati per dire che ci sono dei problemi relativi alla localizzazione, ma di questo avremo tempo e modo di parlare successivamente, anche perché i coloro che hanno presentato il progetto hanno parlato anche di una fattibilità in tre anni, anni, quindi sono presi un bel lasso di tempo, anche se poi la cosa ci lascia un pochino perplessi considerando che il Cagliari ha costruito un campo nuovo, uno stadio nuovo in 180 giorni, Frosinone ha fatto altrettanto, adesso c'è l'inaugurazione anche dello stadio di Pisa, come dire che chi vuole fare qualcosa non ha bisogno di tre anni, si procura gli strumenti necessari e parte. Possiamo chiudere qui Leo, quindi un affettuoso abbraccio a voi tutti come sempre da Gianni Lussoso, ringrazio il regista Leo Di Blasio, appuntamento alle prossime edizioni di TVQ Sport.